Ciao Claudio, oh, mio amore, mio amore, il nostro matrimonio è una settimana, si, sto felice, si, tutto preparato con cuna, la cerimonia inglesa, con tutta la famiglia, i amici, si, una bella festa d'armato, o pelוקare, i si, eh forming andati, possiamo guardare un gente di viaggio per programare il nostro viaggio, fino, si era bene? oh i? e, asi saci? si, adesso , li amo Buongiorno! Sì, quindi quando volviamo a partire del pomeriggio di tornare? Io volviamo a partire una settimana dopo il matrimonio perché il mio sogno non è un tempo per fare per andare e organizzare. E il nostro giorno deve tre settimane di domingo. Io voglio andare un giorno dopo il matrimonio, io voglio vivere un tempo divertente. No, no, non un giorno. Perché? No, no, io sogno un tempo di fare il pomeriggio. Perché? È molto tempo. No, no, è molto tempo. Mi hanno comprometto per partire il pomeriggio. Quattro giorni? Ok, quattro giorni dopo il matrimonio. Sì, dove volviamo andare? Io voglio andare in un'unica, essere tranquillo, con il mare, con... A ver... No, non mi piace il mare. Ero io. Perché no? Questo è un'acqua. Io voglio... Io voglio andare in un negozio, andare al teatro, al cinema, andare a cena fuori, con mi amici, ballare in una discoteca... Es un'acqua, che quelle? Testa la gente. Io stupisco che, problema. Eh... In un italiano, un italiano, un italiano, un italiano, un italiano? No, no. Io voglio andare in un anno in New York. New York? Si, del St. Lucie. Perché non conosco mai stata in St. Lucie. Nostro vive in questo paese. Nostro... No, no, no! Sempre è in St. Lucie. No, no, no! Italiano, americano. Acuosame! Questo è il senato venero musical a New York. Parezzi, ma si viene in Central Park. Central Park? Si! Si! No tropele pomo. Perché? Io mi sentiero amore. Ero. 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 No, no, no. No, no, no. Non trovo il viaggio di notte è un'ottima opportunità per fare un viaggio così. A vero. Per il suo lavoro, alberto, o il seno, o... Alberto. Il chico che è. Chico, il seno è per chi è. Un, tre, tre, tre. No, cinque. Cinque. Tre, tre. Io voglio un avvento per il vicino, il mare. Io voglio, va a comprare il pesce e cucinare. No, non mi piace il mare. Mi piace. Un, tre. 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 Se volvono a pronunciare anche il ristorante per... ... ato calender couleur. Solo co lossione, la mesa tensione o la tensione completa? Completa. Completa? No, io voglio a messo il primo Solo la cosa? No Perché io voglio a cucinare il pesce No Il pesce Con un'allergica al pesce No, se io... Mesa attenzione Mesa attenzione Sì, sì Un'altra cosa? Sì, 8.500 euro per persona Va bene? Sì En España Perchodonac, sì De nada No se ognia che mi ... Perchua del cerimano Beh, pero Cere 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 cerimano, sì Cere cerimano pep... Perchuno ha un cerimano Rolus Perchua del mondo semune Perchua del mondo Perchua E' molto uoso Perchua Gra. Perchua Perchua del bambi Sì, sì. Sì, sì. Due settimana? Sì. Due mesos? Sì, sì. Ok. Sì. Sì, so due mesos di settimana in Spagna. Sì. Con il entio. Con il entio. Sì. Sì. Per tutto? No, per tutto, per tutto, tre mille. Tre mille? Tre mille. Pa bene? Antonio, io ho un problema. Io ho un problema. Uno d'altro mi ha rubato il posto del video, e non ho denaro. Il denaro è... Dove sottie? Dove sottie? No, no, no. Dobbiamo pagare. Tre mille, eh? Por favore. No, no, no. 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 No, 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 no. Grazie!